Sono stati sorpresi con le mani nel sacco un magazziniere infedele e il suo complice che avevano rubato stufe, pellette ed altri utensili in un noto esercizio commerciale a retino approfittando del cambio turno del personale. Si tratta di un cinquantenne e un cinquantunenne arrestati dalla polizia di Stato per furto con destrezza. I due erano già stati individuati dalla sicurezza privata dell'attività allertata da importanti ammanchi di merce proprio nelle ultime settimane. Il magazziniere approfittava di giornate e di turni in cui poteva essere più solo quindi appena le circostanze erano favorevoli chiamava il suo amico spedizioniere che si trovava comunque in città, lo faceva avvicinare all'area carico-scarico, merci e qui caricava quindi diciamo della roba già precedentemente accantonata all'interno del furgone. Ma era una questione proprio di pochi istanti, ecco avveniva il tutto. Martedì si è ripetuta la stessa scena e la vigilanza interna ha immediatamente allertato la squadra mobile della questura di Arezzo che ha constatato la solita dinamica criminale. È così scattato il pedinamento che si è concluso in questo parcheggio. Ci troviamo in zona Caselle. Proprio qui infatti la magazziniere appena terminato il turno di lavoro si incontrava con il corriere che gli consegnava la merce appena caricata. E nel momento in cui si stavano sicuramente dividendo quindi la merce che era stata trafugata poi siamo intervenuti e l'abbiamo arrestato in fraganza. I poliziotti all'interno del furgone hanno trovato un martello pneumatico e un rubinetto per un valore complessivo superiore ai 300 euro. Nel deposito dove era stato visto lo spedizioniere scaricare merce nei pressi di Levane infine gli agenti della mobile hanno trovato altro pellet rubato da qui la denuncia per ricettazione a carico del titolare della rimessa.